Il cappotto per favore. La ringrazio. Arrivederci. Aveva detto che andavamo in discoteca e invece mi ha portato in un locale di spogliare viste. Siamo sposati da appena due giorni e come sempre pensa a guardare solo le altre donne. Questa volta però se ne pentirerà. Voglio dargli una bella lezione. Salve, un whisky senza ghiaccio per favore. Je pake un prie madame. Ho chiesto un whisky senza ghiaccio. Whisky qua? Un whisky senza ghiaccio. Désolée. Ah, è possibile che non riusciate a capire? Madame, ma vous ne parlez pas français? Non capisco. Un whisky sans glace. Ah, sans glace. Voi siete italiana? Sì. Non sia nervosa. I francesi sono fatti così. Non amano stancarsi per capire le persone. Da che parte dell'Italia venite? Vengo da Napoli. Ah, Napoli. Una città veramente magnifica. Ci sono stato di passaggio qualche anno fa. Un mare splendido. Un paesaggio unico al mondo. Lei è fortunata. Sì. Un altro whisky per favore. Un altro whisky pur madame. Vedo che ama molto bere. E' venuta qui a Parigi per vacanze? In viaggio di nozze. Un altro per favore. Viaggio di nozze? E il vostro marito? Dove? Senta, non ho voglia di raccontarle la mia vita. Sono venuta a Parigi solamente per divertirmi. Può fare qualche cosa per questo? Ci rifletta un attimo. Ok? Io vado alla tua letta. È vero? Allora? Ha pensato a ciò che le ho detto? Non avevo alcun bisogno di pensarci. Mi spiace, siamo al completo. Arrivederci. Buonasera. Buonasera, mi dica. È già tornata mia moglie? No, la chiave è qui. Potrei averla? Certo. Grazie. Prego. Buonasera. Buonasera. De tiquet, s'il vous plaît. Merci. Prego, accomodatevi. Lei può andare, signorina. Desiderate bere qualcosa? Un whisky? Un gin? Una coppa di champagne? Ah, no, grazie. Immagino che siete qui a presentare la vostra candidatura per la produzione del nostro prossimo film. Nel mio paese ho ascoltato l'annuncio di un vostro incaricato e siamo venute qui. Da dove venite? Abitiamo entrambe a Terrasini, un piccolo centro in provincia di Palermo. Bene, ne avete fatta di strada. Spero che almeno vi possa servire a qualcosa. Avete frequentato qualche scuola di recitazione in Sicilia? Abbiamo avuto diverse esperienze di rappresentazioni teatrali con la compagnia stabile del nostro paese e devo dire che tutti ci consideravano molto brave. Il cinema è diverso dal teatro. Ma la sua amica non parla mai? Lei è molto timida e preferisce lasciar parlare me, però posso garantirle che in scena cambia completamente. Bene, spero proprio che sia come dice lei. Voi sapete che per il prossimo film, che si chiamerà Napoleone, noi ricerchiamo due attrici. è necessario però che sappiano ballare. Se gentilmente vi alzate, per farmi vedere come vi muovete, basta soltanto che facciate qualche leggero movimento per valutare la vostra tendenza al ballo. Nulla di particolare. Lei può girare un po' su se stessa, per favore? Ecco, faccia un giro completo. Un po' più di movimento. Continuate pure così. Lei faccia un altro giro lentamente. Ecco. Bene.